Dalla campionessa regionale di Kumite Karate alla giovanissima campionessa Ande 14 di Fioretto, un giocatore in forza la Juve Stabia, sono solo alcune delle giovani promesse dello sport originale del Bignasego, celebrate e premiate in occasione dell'apertura di Sportivando nei parchi. Come amministrazione riteniamo importante dare visibilità e anche un riconoscimento ai nostri giovani, anche meno giovani, che hanno avuto grandi risultati in varie attività sportive. E quale miglior occasione con Sportivando, con l'apertura in piazza di Sportivando, anche perché è un'attività, lo chiamo sempre una palestra a cielo aperto, che viene fatta per dare massima visibilità alle nostre associazioni e con l'occasione ai nostri atleti meritevoli. Per l'amministrazione comunale di Albignasego, un'occasione per far conoscere ai più giovani le associazioni sportive del territorio. Viste le molte attività che abbiamo, perché abbiamo circa più di 30 associazioni sportive, in varie discipline, ritengo sia importante e anche stimolante dare un riconoscimento alle nostre giovani leve. Per cui abbiamo ritenuto questa occasione con il sindaco di premiare i nostri atleti meritevoli.